Io ti leggo testualmente una cosa che tu dici, dici se mi chiedete qual è la cosa peggiore che possa succedermi vi assicuro che vedere le proprie foto girare nelle chat del fantacalcio di migliaia di sconosciuti è terrificante. Allora ti chiedo di raccontarmi un po' tutto questo aneddoto, cioè come è successo e l'hai scoperto che queste foto poi circolassero chiaramente senza il tuo permesso, perché altrimenti... Raccontami un po' dove eri, come è stato. Quel momento me lo ricordo benissimo, come se fosse adesso, ho proprio impressa quell'immagine lì perché io mi sono svegliata e mi ricordo che un mio amico mi ha scritto un messaggio e mi ha detto guarda che stanno girando delle foto tue strane e io ho detto ma figurati ma non sarò io, ma sai mi ho pensato dei fotomontaggi e mi manda la prima foto. Quando mi ha mandato la prima foto ho sentito un vuoto dentro e mi si è bloccato il respiro credo forse per più di dieci minuti, non riuscivo proprio a respirare, è stato un momento tragico e ancora adesso quando ci ripenso dico non so come ho fatto a superarlo. Ma ti posso chiedere cosa si vedeva in queste foto? Cioè che c'era di così imbarazzante? Erano foto che secondo me una ragazza di... all'epoca avevo 18, forse 17 anni, alcune foto erano anche minorenne. Si scatta con l'innocenza, l'ingenuità di vedersi davanti a uno specchio oppure tra l'altro quelle foto non le ho neanche mandate mai a nessuno ma erano all'interno dell'iCloud che sarebbe questa nuvola che poi non so come ma hackerando questo profilo sono riusciti ad entrare. Grazie.